Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e qui è Manu e ben ritrovati nel canale ragazzi E oggi facciamo un video con Manuè, è proprio una cosa incredibile, questo è stato un video Pensate, pensate, che avevamo anche pensato di non farlo proprio più perché ormai praticamente Pensate che avevamo pensato praticamente di non farlo più No, di aprirlo noi L'abbiamo comprato esattamente il 4 novembre 2019 E' arrivato adesso, io me l'ero dimenticato, me l'ero dimenticato che dovesse arrivare La prima volta gliel'avevo chiesto però Io me l'ero completamente dimenticato E come detto, siccome è arrivato con così tanto ritardo e ormai destino sfuggente ragazzi è un lontano ricordo Però abbiamo detto, vabbè ma che ce ne importa, lo facciamo lo stesso Vedi ce le guardiamo insieme Allora, come avete detto dal titolo, è il box in coreano L'abbiamo fatto ovviamente per Goyardia ragazzi, le carte in coreano non valgono nulla Però sono comunque belle e questo box è divertentissimo perché sono tutte olografiche Quindi tutte reverse, c'è sempre la GX quindi comunque è divertente aprire Questi pacchetti Dunque, prima di iniziare questo video, noi come al solito vi vediamo a lasciare un grosso voce all'insù E mi raccomando, iscrivetevi al canale Manu, io non vedo l'ora di aprire Io, guarda l'altro, non l'ho mai aperto questo Perché l'avete aperto con Marco Dunque, spostiamoci sotto Allora Manu, eccoci qua Non mentiamo Il signor CEO Jongsil ci ha spedito da Seoul, Corea Il box ovviamente, come abbiamo detto, destino sfuggente Allora, qua abbiamo il nostro taglierino professionistico E andiamo ad aprire il nostro pacchetto Eccolo qua, ci ha messo un'eternità Ah, le spedizioni saranno pure state gratuite Manu No, veramente è venuta al nuoto Ok, allora Manu, io ho visto che qua Ci abbiamo un fogliettino Andiamo a leggere Benvenuto Pikachu Ecco Non si dice stavolta Sì Perché non Squelo, squelo, squelo Vediamo un po' che cosa ci hanno mandato Allora, qua che ci dice Grazie per il tuo acquisto La tua soddisfazione per questo acquisto è nostra priorità Al contrario della spedizione Vabbè Se non sei soddisfatto Contattaci Gentilissimo Sì, sì E lasciaci in queste stelle Molto gentile questo venditore coreano Magari vi lasciamo qui sotto Il link del suo negozio E questo comunque Ragazzi, l'abbiamo già visto l'altra volta Perché l'abbiamo già aperto Noi proprio vedendo il video Mi piaceva tanto Quindi ti ho rotto le scatole per prenderlo Esatto Quindi vabbè Riguardiamolo velocemente il box Abbiamo ovviamente sulla parte principale Il disegno classico dell'espansione Ovviamente qua ci fa vedere alcune di l'artwork Che possiamo trovare all'interno degli pacchetti E quindi Niente, non si può capire niente Allora, se non sbaglio Manu Erano dieci Dieci pacchetti Io vado ad aprire Quindi quindici carte che stanno in ogni pacchetto Ti ho scritto 150 carte Probabile Guarda, questo è proprio strano Mi ricordo che era bellissimo Perché erano tutte brillanti Una cosa spettacolare Una gioia Sì, infatti i pacchetti sono molto cicciottelli Ti senti che sono corposi Sono due 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Possibile 4, 6, 10, 12, 14 Ma ragazzi non c'ho il problema Alla senti Ma io direi di tenerne uno Ovviamente bonus Che lo apre chi trova la shiny Va bene E niente E poi ce ne apriamo ovviamente 8 per 1 No, 7 per 1 E poi Allora Manu quanti c'hai? Io ce n'ho due 4, 6, 7 Qua ce n'ho un più Ma posso 6, 6, 6 Perfetto Ho lasciato il bonus qua giù Vai Io non lo tocca a nessuno Pronto Manu? Vai Senti io non mi ricordo assolutamente Come era il trick E ci proviamo? Vabbè fai due Ci proviamo Vediamo un attimino Fai due se ti ricordi due Dovrei ricordarmi due Ma non è che sto sicuro Ma vediamo Vabbè le brutte Allora Allora Qua come al solito Questo M'hanno tutte brillantine Ok Oh Manu io la sento ruvida Subito Eh si Senti Hai sentito? Io la sento ruvida E quindi lascio così Vai Allora Qua ci abbiamo Un bel execute Poi Non mi ricordo Per alz Ma potrebbe dire cavolata Bella Energia a fuoco Cube on Executor Sudoku Questo è Non mi ricordo più Regà È incredibile Me li dimentico Lo sapevo Ma non me lo ricordo più Altaria Altaria E questa mano Io l'ho sentita È una shiny Shiny normale Psico Vado? Vai È il serpente È il serpente Oddio Non mi ricordo minimamente Come si possa chiamare È bella Sia shiny Quindi Manu In teoria È l'ultima È sempre l'ultima Sperò Senti Io ci rimetto Il dito E vediamo Perché Vabbè Primo pacchettino Subito shiny Non è male Male non è andata Ecco Che cos'è Che non mi ricordavo Perché Sti pacchetti Certi Sono impossibili Da aprire Sono durissimi Allora Non lo so Stavolta No Sicuramente Non è ruvida Però Io non lo so Sì sì È sempre Un'ultima Però Allora Questo glaciale Che non mi ricordo Mamma mia Sono così brillanti Che Ci vediamo noi Di riflesso Allora I nomi Problema Energia psico Questa è l'evoluzione Che ha fatto Un casino L'evoluzione Di Rals Lei è il leggendario Dianni Sene Una cosa del genere Snow qualcosa Loro che non mi piacciono Niente Lucario Siamo arrivati Sì E che se GX Ma no GX acciaio Eh Male metal Dici no Non sa che è possibile Sol galeo Beh Beh Ultrasol galeo Peraltro Niente male L'avevamo aperta Da qualche parte Sì sicuramente Ma mi sa che l'abbiamo aperta Proprio con Marco Se non sbaglio Ultrasol galeo Ma pure Ultrasol galeo La metà l'avevamo trovato Ok Allora Prossimo pacchetto Ah no È molto più Chiaro Guarda È molto più chiaro Non so se dalla camera Si vede Ma sono più chiare Allora Full C'è un bus Che hanno qualcosa Del genere E Insomma Non me li ricordo Non c'è un problema Energy acciaio Cosmog Mimichu Mimichu Questo almeno così Proseguiamo Ma non spiegati Quanto so duri Una cosa Ma come maggio Ma come è una cosa incredibile Allora E niente Il trick non c'è Ormai è appurato Snisil Snisil Qualcosa Bulbasare Questo ti piace tanto Manu Energia tripla Energia acqua Bellissima Lui è Gorchamp L'ultima Ma quelli prima Non me li ricordo L'anello Marowak di Alola E lei Non mi ricordo Ancora 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 Bello Questo è Good Lord L'ultra creatura E questo è shiny Questa è shiny Oddio Ho letto Penso se è Picasso shiny Impossibile Non esiste Però Magnemite E invece no Non è E questo È cosa Raigou È il cane leggendario Però Sembra Non c'è la GX Ma come è possibile Non c'è deve essere sempre la GX Cioè O C'è la GX O c'è la shiny Qua non c'è la nella GX E nella shiny Ma che t'ho bagato Lo sapevo Che capitava a me Ma c'è il luccoso facilitato Sì Oh Vaffan Cuccolo Qua È facilitato Ma non troppo Un po' Non del tutto Facilitato Ok Mamma mia Penso che trova Beh Quale shiny Però almeno sentimo Sessore di line Allora Frogy E l'ultimo è Green Ninja E questo Non me lo ricordo Poi c'è un problema oggi Con ste carte Beh lui assolutamente Non mi ricordo chi è Cube on Energia tripla Ancora energia acqua Ancora loro E lui Lo sai Lo sai Lo sai Manu No non lo so Sì 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 Dai Rotom Manu Rotom Tra l'altro di questi qualcuno ce l'ho Tu l'hai fatti di tutti A me Quello l'abbiamo Ma lo sai che forse mi manca pure a me Manu Però pensavo che non ce ne fosse un altro Perché non l'abbiamo mai trovato Lui è leggendario Non mi ricordo come si chiama Chi è? Che cosa è questa? Sembra una prisma No è allenatore È allenatore È quindi bello È prisma È prisma bruttissima Sì Non ci piaceva niente Oh ma non mi ricordo che con Marco erano più belle le carte Ah Mi ricordo che c'erano tutte i rips Ecco le quelle più belle Ma come è possibile che qua già due e non c'erano niente È praticamente 12 gx no Secondo me no Sì Secondo me sì Va bene Quanto vuole ha quello? 5 stelle Proseguiamo Eh se continuo così mi sa manco una E Fennikin Magneton Ege elettro Rockcraft Rockcraft Comunque è uno sforzo di memoria questo svegliettamento Rotom Qui non c'è sta niente un'altra volta Oh questo è bello Dark Grey E qua non c'è niente un'altra volta Lei è tutto pronta E me ne ha Ma come è possibile? Oh ma chi ne so Manu io ho trovato la tristezza vera Ma perché? Non c'è da essere sempre una gx Secondo me sì Oh c'è qualcosa di strano No non lo so Io mi ricordo di Oppure No aspetta aspetta Manu aspetta Era quello in giapponese che c'era sempre la gx Ah ok 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 Qui invece erano tutte Olo praticamente Sono tutte reverse Ecco qual è la differenza Vabbè vabbè Dai questa secondo me è una gx comunque Vai Allora Torchic E l'evoluzione d'Altaria La prima non mi ricordo Inky Inky Qualcosa non mi ricordo Energy Elettra Diglett Questa se non sbaglio era Ultramondo Qualcosa del genere Mamma mia esatto Tortunator Giritio Bello Reshirom E No non è una gx È un'altra brutta brutta Questa è mucco È mucco È mucco Guarda perché non si capisce Eccolo qua Guarda un po' Guarda un po' Eccolo qua Perché questo era un po' mascherato E tu lo metti così È un buco Vabbè Manu Io ho fatto proprio una schienzeria totale Quindi vai Vai tu Manu Devo far meglio Devi recuperare perché io ho fatto una tristezza vera Vado va Torni Madonna Ok Torchic E froga qualcosa Ultracreatura Energia acqua Questo non ho più pari idea Proton Bello Venosauro Non si sa Non si sa E di Anse Diani Se neanche cosa così Ci piace Ho trovato il coso Lo shiny Che non mi ricordo come si chiama Però bello Un altro shiny Ok secondo pacchetto Sì Ti ho mostrato tipo 2 shiny 2 shiny Ci manca ancora Stagi x shiny C'è manca si Facciamo un pullart Se chi mi potrebbe sta pure Il zardone Ecco ci vedremo Quello sto qua Ok Allora Ma sono troppo riverbero Comunque Questo non morire Eh sì perché sono sacco luminose Ok Energia E Non mi ricordo E qualcosa con Bacon Bacon No no Bacon è quello di Salamence Questo Cancella Rotom Questa è Rom Romerbo E questo è Blaziken E Garchomp Bello Questo pure olografico Non male Va bene va bene Ok Terzo pacchetto ragazzi Sì 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 E questo è l'ultimo E lei è ferosa Purtra creatura Però qualcuno me ne ricordo È un pochima Qualcuno me ne ricordo Abbiamo fatto troppo Eh tutta Ormai si è più di 800 900 Ma cosa sa Ma poi vabbè La prima generazione Tutta però Quale altre? Ovviamente Ok Sì Sì Energia Tripla Sì Bella lotta Questa mi sa che è la prima Che troviamo Di lotta Si può essere Alza Tortonitor Tortonitor Un'altra Cartana Questa è la mega pozione È l'altro Questo non mi ricordo È brutto Questo Questo è quello che Marco Dice Ma come si so Permette Di fanno così Tutto È lui proprio Va bene Vai Oh Manu Sì Sì Ma Gix Proprio Eh però A me ci serve La La Ciccia È la shiny Ci hai fregato Sta roba Vai Guarda quanto è brutto Questo Lo faccio rivedere Cosmod Sì Energia Buio Buio Sì Ductria Di allola Sintia Sintia Sudo Vudo Sì La caverna La caverna Lucario E GX Ma non Però non è shiny Oddio mi sa che è l'ultra creatura Quella elettrica È esatto Che non mi ricordo mai Come si chiama Ma è lui Va bene Penultimo pacchetto ragazzi Poi ce n'è uno bonus Io intanto cerco di fare Mini Resegonoti Dopo facciamo vedere Quello che abbiamo trovato Qua abbiamo una quantità di carta Ok Intanto continua Vai 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 Mamma mia quanto riverbero Ma riverbero non è una cosa sonora No riverbero anche Questo è Sablai Sablai Ok Come si chiama la prima posizione Lucario Eriolo Manu Vai Riolo Bella questa polletta Bella Non c'ho la più pallida delle altre C'ha uno dei diffusi Degli aromi Rotom Sì Stai piano Che potrebbe essere No No Tipo zero Tipo zero E' un altro E questo è Zaygard Zaygard Ok Manu Praticamente 50 e 50 O qui O nell'ultimo Ma se non sbaglio Pure con Marco Ma quando vorrei buttare l'aera L'ultimo pacchetto Davvero Però qua potrebbe essere pure questo E' sempre sentito Ruina No E' allora è l'ultimo Bello però è così Mi piace Allora Ivisaur E' Lui Digletta Bella E' già Psico E' non mi ricordo Poi l'aspirapolvere Sì Rotom La ROM Rot La ROM Ultrasolicaleo E Zaygard Questo è Zaygard Perfetto Manu E dai Apri la tutta Ero io Sì 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 Presenti servitina Ma metto senza fax Non c'è io spacco tutto Io faccio feedback negativo E ti rivolgo Tutto succede Subito controverso Subito Subito Sì è che dai Che deve stare per forza Dai ma lo avevamo fatto Per l'ultimo È possibile Sai che intuogliate Le banche non è Sì forse Perché Eh Non so Forse questo Dove è in cesta Non c'è 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 Dai eh Manu bella Devesse Eh per forza Dai 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 Altaria No Però vabbè Lei Energia Acqua Una di queste Si chiama Dana Te la voglio buttare là Mi ricordo così Romerba Ancora ci stiamo no Si E questa che è la prossima Ok E lei E cos'è No No Eh Che tipo è Buio Dio Se è Umbreon Marco more Uccidiamo Marco E Bellissimo E se era Umbreon Uccidelo Però questa cosa deve ammazzare a me perché dark grey è la stupenda Ma vabbè come dicevamo per l'inizio è in coreano Non male niente però comunque è bellissima E certo dark grey shiny perché Siamo contenti? 100 Io sono contento Cesaro Vabbè charizard ma tu ce l'hai Guarda me quelli che mi piacevano di più ma non erano U e charizard che me li so comprati Quindi se li trovavamo un erico ci contento No questo è toffo Perché mi sarebbe sì io Poi facciamo sempre un piccolo Un piccolo resoconto di quello che abbiamo trovato Allora ci abbiamo Solgaleo Ultra Solgaleo GX Poi noi che non ci ricordiamo come si chiama shiny Marcheto molto bello Anche lui non ci ricordiamo come si chiama però shiny E anche lui indovinato un po' non ci ricordiamo come si chiama GX Quindi ragazzo ti dai non è andata male Questa è veramente una super carta bellissima Siamo molto soddisfatti Sono molto soddisfatto Anche per questo video dunque è davvero tutto Noi come a solito vi invitiamo ad iscrivervi al canale E premere sulla campanellina Per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite E se questo video vi è piaciuto Lasciate un grossissimo pollice in su Bello luminoso come questo Dark Ray shiny Qui da Visio e da Manu è davvero tutto Noi vi mandiamo un grosso saluto Ciao